Perché c'è Enrico Agostini con il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Danilo Torinelli. Allora, è uscito un flash del Movimento 5 Stelle, governo del Presidente neutrale, per noi non cambia nulla, voto a luglio. A te Enrico. Eh sì, giriamo di nuovo la domanda a Danilo Torinelli che però è un po' scontata, nessun voto a un governo neutrale proposto dal Presidente Mattarella. Allora, la prima cosa che voglio dire è che rispettiamo fortemente le prerogative del Presidente della Repubblica e capiamo perfettamente il tentativo fatto dal Presidente Mattarella. Ma siamo obbligati anche a ricordare, non a lui ma a tutti i cittadini italiani, che sono 60 giorni che tentiamo di dare a questo Paese un governo rispettoso del voto popolare, che significa governo politico. Contro il fatto di governo con la Lega, con Salvini che ha mantenuto, abbracciato Berlusconi, piuttosto che aprire un governo del cambiamento che aiutasse e agevolasse la qualità della vita dei cittadini. E dall'altra parte un PD totalmente rilevante che si è dichiarato all'opposizione, quindi non vuole, ha buttato via tutti i voti che ha preso, che non è venuto neanche al tavolo a parlare di temi. Questo significa che noi le abbiamo provate tutte, non possiamo certamente accettare un governo di servizio che è evidentemente un governo tecnico, che non ha un collegamento con la sensibilità popolare, non ha una validazione popolare, non passa per il voto popolare. L'8 luglio secondo noi può veramente essere la data giusta del voto e una data di vero cambiamento. Il Presidente è stato preoccupato anche di un voto che potrebbe essere disatteso in piena estate, con dunque un disamore anche che potrebbe aggravare un astensionismo già molto forte. Non vi preoccupa? Siete sempre comunque pronti ad andare a votare l'8 luglio? Guarda, noi sentiamo una fortissima sensibilità popolare invece. La gente in giro si dice costantemente andate avanti e andiamo al voto. Oggi ci danno al 35, voi sapete che non ci interessano i sondaggi, ma non possiamo non valutarli. Mi pare abbastanza scontato che l'obiettivo 40%, che ci può permettere di governare da sole e finalmente evitare quei Renzi e Berlusconi, che hanno sabotato, perché diciamolo chiaramente, le parole giuste, sabotaggio, tradimento, cinismo, cattiveria, hanno fatto di tutto tramando dietro le spalle, per non permettere che 11 milioni di persone che hanno votato il Movimento 5 Stelle entrassero in questo Parlamento e entrassero in questo governo, perché questo è accaduto. Come possiamo pensare che, stante gli stessi interlocutori, noi facciamo un governo, perché questo è un governo di servizio del Movimento 5 Stelle, Corrente e Berlusconi, per fare cose niente? No, direi proprio di no. Sì, Donato, non so se hai domande. Sì, una sola. Per il Presidente Toninelli, il Capo dello Stato ha paventato l'ipotesi che in mancanza di una revisione della legge elettorale, nuove elezioni, anche a brevissimo termine, potrebbero produrre lo stesso risultato, chiamiamolo così, di stallo. Questo la preoccupa in qualche modo? Io sono, allora, due cose. La prima cosa è che sono più che convinto che se si dovesse aprire un dibattito in Parlamento sulla legge elettorale, i cittadini fuori non lo capirebbero, ma certamente, se va bene, durerebbe almeno due anni. E penso che sia la cosa più sbagliata, politicamente parlano. Prima va messo in sicurezza il Paese. Io sono convinto, altrettanto, come seconda cosa, che ce la possiamo fare. Quel 33% è stato meraviglioso come il 25% nel 2013. Siamo una forza politica che può crescere e sono convinto che se i cittadini a casa capiscono che votare PD è rilevante, perché l'ha detto lo stesso PD, che dice sto all'opposizione senza poter partecipare, e discutere con nessuno di un'ipotesi di governo o di un contratto di governo, che votare Berlusconi è una follia perché ha sabotato qualsiasi possibilità di governo del Movimento 5 Stelle. Siamo di fronte a un vero ballottaggio con la stessa legge, con la legge pessima che ha fatto Renzi, ha fatto Berlusconi, ha fatto Salvini, perché Rosatellum, noi eravamo in queste piazze qua, per queste strade, a protestare contro Rosatellum. Gli lo dicevamo che avrebbe creato il caos. L'hanno approvato lo stesso. Oggi non si può modificare. Non ci sono le condizioni politiche. Andiamo a votare. Il ballottaggio sta nel voto in sé.